Al Capone, una figura iconica e controversa nel panorama della criminalità americana, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia degli Stati Uniti. Il suo percorso inizia il 17 gennaio 1899 a Brooklyn, New York, in una famiglia di immigrati italiani. Figlio di Gabriele Capone e Teresa Raiola, Al fu il quarto di nove figli. Un errore burocratico durante l'immigrazione trasformò il cognome originario, Caponi, in Capone, segnando per sempre la loro storia. La loro casa al 95 di Nevy Street a Brooklyn era situata in un ambiente di povertà e disagio, dove il giovane allentrò presto in contatto con microcriminalità minorile insieme ai suoi fratelli. Abbandonò la scuola cattolica all'età di 11 anni, gettandosi ancora più profondamente in un mondo dove le bande locali erano la norma. Il suo ingresso nei ranghi della criminalità organizzata avvenne con il suo coinvolgimento in varie gang giovanili, prima di entrare a far parte dei Five Points Gang sotto la guida di Johnny Torrio. Questo periodo segnò l'inizio della sua ascesa nel mondo del crimine, mettendolo in contatto con figure chiave come Frankie Yale e Lucky Luciano. Il soprannome Scarface gli fu conferito a seguito di un alterco, una cicatrice sulla guancia sinistra causata da un attacco con un rasoio. Questo episodio rappresentò uno dei tanti momenti che plasmarono la sua reputazione nel sottobosco criminale di quegli anni. La svolta nella sua carriera arrivò quando, su raccomandazione di Torrio, fu assunto come buttafuori e barista presso l'Harvard Inn di Frankie Yale a Coney Island. Qui si immerse nel mondo della criminalità organizzata, aprendo le porte a un percorso che lo avrebbe portato a diventare uno dei criminali più famigerati della sua epoca. Il matrimonio con Mike Olin e la nascita del loro figlio Albert Francis segnarono una nuova fase nella vita di Capone, spostando la sua attenzione da Yale a un lavoro come contabile a Baltimora. Tuttavia, la morte improvvisa del padre lo riportò nel circuito di Yale a New York. Questi eventi prepararono il terreno per la sua scalata al potere nel mondo del crimine organizzato, portandolo a diventare uno dei principali capi della criminalità durante il periodo del proibizionismo. La vita di Al Capone è un racconto intricato di crimine, potere e influenze. La sua storia, dai quartieri poveri di Brooklyn alla vetta del mondo del crimine organizzato, rimane un capitolo avvincente e controverso nella storia americana. La storia di Al Capone si intreccia con le strade di Chicago in un'epoca segnata dalla proibizione e dall'ascesa della criminalità organizzata. Giunto a Chicago nel 1919 su richiesta di Johnny Torrio, Capone si inserì nel cuore del sindacato del crimine della città, prendendo le redini di attività illegali come il For Deuces, un nightclub che fungeva da spichisi, bisca e bordello durante il periodo proibizionista. Accolto nel mondo criminale da Jack Guzik e affiliandosi a Torrio, Capone stabilì la propria residenza nel South Side di Chicago e pian piano consolidò il controllo, stringendo alleanze con figure come Dino Benion della North Side Gang e i fratelli Genna, potenti mafiosi siciliani. Tuttavia, l'elezione del riformista William Dever come sindaco nel 1923 cambiò le carte in tavola. Dever mise in atto una politica di ferro contro i gangster, spingendo Torrio e Capone a spostare le proprie attività a Cicero, nell'Illinois, dove il sindaco corrotto Joseph Clna garantiva loro protezione. Qui, al Hotorn Hotel, i due stabilirono il loro quartier generale, estendendo il loro controllo sulla zona. Le elezioni del 1924 a Cicero furono segnate da violenze e orchestrare da scagnozzi di Torrio e Capone, culminando nell'assassinio di Frank, fratello di Capone, durante uno scontro a fuoco con la polizia. Questi eventi innescarono un aumento delle violenze contro gli avversari politici e persino contro la polizia stessa. Capone, sempre più coinvolto in atti criminali e violenze, venne accusato dell'omicidio di Joe Howard, un malavitoso che aveva insultato lui e Guzik. Nonostante le accuse del procuratore McQuigin, i testimoni dimenticarono l'identità dell'assassino, impedendo una condanna. Il dominio di Capone e Torrio a Chicago e il turbamento che causarono a Cicero sono solo una parte della storia di un periodo contrassegnato da corruzione, violenza e lotta per il controllo territoriale nel sottobosco criminale degli anni 20. La loro presenza ha segnato in modo indelebile la storia di queste città, lasciando un'eredità di criminalità e tumulto che rimarrà impressa nella memoria della nazione. Gli anni 20 furono testimoni di una violenta e sanguinosa guerra tra bande nel sottobosco criminale di Chicago, un periodo segnato da omicidi, vendette e lotta per il controllo territoriale. Uno degli eventi più noti, la strage di San Valentino, è solo uno dei capitoli di questa turbolenta saga. Tutto ebbe inizio con il gangster Dion O'Benion che, nel 1925, cominciò a sequestrare i camion carichi di alcolici dei fratelli Genna, scatenando tensioni nel mondo criminale. Nonostante il rifiuto di Mike Merlo di concedere il permesso di ucciderlo per evitare una guerra, O'Benion ingannò Torrio e finì assassinato da Frankie Yale, inviato da Torrio e Capone, oltre che da killer dei fratelli Genna. L'assassinio avvenne poco dopo la morte per cancro di Merlo, che non avrebbe approvato un atto così sanguinoso. Con l'ascesa di Vice e Moran alla guida della Northside Gang, la tensione crebbe ulteriormente. O'Benion venne vendicato e Torrio rimase gravemente ferito in un agguato, decidendo di cedere il comando del sindacato a Capone e ritirarsi in Italia. Capone stesso divenne bersaglio di numerosi tentativi di omicidio da parte di Vice e Moran, ma riuscì sempre a salvarsi. Nel frattempo, i fratelli Genna furono praticamente annientati dalla Northside Gang e costretti a lasciare Chicago. Capone si macchiò di efferati delitti, acquisendo notorietà negli Stati Uniti. Uccise Lonergan e due dei suoi uomini per degli insulti subiti in uno spichisi. Successivamente, il procuratore McQuigin, che aveva accusato Capone di omicidio in passato, fu assassinato, mentre Capone fuggì a Lansing, in Michigan, per evitare le conseguenze. Tornato a Chicago, affrontò accuse di omicidio ma le prove non furono sufficienti per incriminarlo. La situazione escalò con tentativi di omicidio da entrambe le parti. Capone fu oggetto di un altro agguato, ma propose una tregua alla Northside Gang, che fu rifiutata da Vice, il quale fu successivamente ucciso dai killer di Capone. Questa serie di eventi violenti e delitti sconvolgenti definì un periodo di turbolenza nel sottobosco criminale di Chicago, portando Capone a emergere come uno dei protagonisti principali e a consolidare il suo controllo nella scena del crimine organizzato. La sua abilità nel sopravvivere agli attacchi e nel reprimere i suoi nemici contribuì alla sua leggendaria reputazione di boss indomito e spietato. Il turbolento scenario del crimine organizzato negli anni 20 e 30 ha visto al Capone emergere come una figura di spicco, segnando la storia del sottobosco criminale americano con la sua abilità tattica e spietatezza. Capone, consolidando il suo potere, entrò in contrasto con mafiosi siciliani come Giuseppe Gioaiello e Frankie Yale. La lotta per il controllo dell'Unione Siciliana di Chicago portò a scontri violenti, assassini e vendette. Capone, appoggiato da Gio Masseria nonostante non fosse di origini siciliane, fece nominare il suo socio Lombardo presidente dell'Unione Siciliana, scatenando una guerra con Aiello e Yale. Gli scontri si intensificarono con tentativi di omicidio e vendette reciproche. Capone, sempre più coinvolto in violente faide, orchestrò l'assassinio di Yale a Brooklyn e scatenò rappresaglie contro i sostenitori di Aiello. La rivalità sfociò nel massacro del garage di San Valentino, dove sette membri della North Side Gang furono brutalmente uccisi. La fama di Capone cresceva nonostante il suo coinvolgimento in omicidi e crimini. Nel 1929 fu arrestato per oltraggio alla corte, ma pagò la cauzione e fu rilasciato. Nel frattempo, continuava a eliminare potenziali rivali, come Scalise, Anselmi e Giunta, in una mossa per mantenere il suo controllo. La sua attività nel mondo criminale era in continua espansione. Partecipò a incontri ad Atlantic City per discutere strategie di contrabbando e fu coinvolto in arresti per possesso di armi illegali a Filadelfia. Nonostante le accuse, Capone dimostrò la sua abilità nel navigare tra le maglie della legge, uscendo spesso da situazioni compromettenti. Il suo coinvolgimento nella guerra tra Maranzano e Masseria nella cosiddetta guerra castellamarese aggiunse un altro tassello alla sua storia. Dopo la morte di Masseria, Capone ospitò incontri per discutere delle implicazioni della vittoria di Maranzano, che divenne capo dei capi. L'eredità di Capone nella storia del crimine organizzato americano è segnata da violenza, scontri e manipolazione politica. Il suo dominio nel mondo criminale, anche se segnato da controversie e crimini efferati, ha contribuito a plasmare il panorama del crimine organizzato negli Stati Uniti. Il nome di Al Capone evocava terrore e dominio nei bassifondi criminali degli anni 20, ma il suo regno di potere incontrò la dura realtà della giustizia nel 1930, quando fu designato nemico pubblico numero uno dagli Stati Uniti e inserito nella lista dei criminali più pericolosi dell'FBI. La caccia a Capone iniziò quando Andrew Mellon, segretario del Dipartimento del Tesoro, ordinò a Elliot Ness di catturarlo, dando origine alla squadra degli intoccabili. Questo gruppo intraprese una strenua battaglia contro il boss criminale, intercettando le sue telefonate, scrutando le sue transazioni finanziarie e sequestrando carichi illegali di alcolici. Le prove raccolte da Ness e dalla sua squadra portarono alla formazione di un grande Uri, incriminando Capone, suo fratello Ralph, Jack Gutzig, Frank Nitti e altri membri del sindacato di Chicago per evasione fiscale e violazione del Volstead Act, la legge sul proibizionismo. Il processo che seguì nel 1931 rappresentò la fine del regno criminale di Capone. Nonostante i tentativi dei suoi sodali di corrompere la giuria, questa fu sostituita all'ultimo momento con una nuova giuria protetta. Il verdetto fu inequivocabile. Capone fu giudicato colpevole solo per una parte delle accuse di evasione fiscale, ma venne condannato a 11 anni di carcere e a una multa assalata di 50.000 dollari. Questa sentenza assegnò la fine del dominio di Capone nel mondo del crimine. Il boss temuto e rispettato, il re incontrastato dei bassi fondi, fu portato giustizia, dimostrando che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno un'icona criminale come al Capone. L'arresto e la condanna di Capone rappresentarono una vittoria per la giustizia e un avvertimento per coloro che avrebbero cercato di sfidare l'autorità. La sua caduta segnò la fine di un'era e mise in luce il potere della legge nel perseguire coloro che si rifiutano di sottostare alle regole della società. La storia di Al Capone, l'infame boss del crimine organizzato, si conclude con una triste epilogo, contrassegnata da un declino fisico e mentale dovuto a una malattia che lo ha portato alla sua fine prematura. Dopo essere stato condannato e incarcerato, Capone visse una vita relativamente comoda nel penitenziario di Atlanta, Georgia. Lì, nonostante la reclusione, beneficiò di privilegi e lussi, mantenendo un certo controllo sui suoi interessi criminali. Tuttavia, la sua situazione cambiò radicalmente nel 1934, quando fu trasferito nel famigerato carcere di Alcatraz, dove subì un trattamento più duro e l'isolamento dal mondo esterno. In seguito, nel 1938, la scoperta della sifilide contratta anni prima causò il suo ricovero nella sezione ospedaliera di Alcatraz, trascorrendo un intero anno in cure mediche. Nel novembre del 1939, Capone ottenne la libertà condizionale grazie alla riduzione della sua pena per buona condotta e lavoro svolto in carcere. Tuttavia, la malattia aveva ormai lasciato segni indelebili sulla sua salute mentale, portandolo a soffrire di demenza. Dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Baltimore, Capone si ritirò nella sua tenuta a Miami, continuando le cure. Ma la sifilide aveva già causato danni irreversibili al suo corpo e alla sua mente. Nel gennaio del 1947, un ictus e una polmonite derivati dalla malattia lo colpirono, segnando la sua fine. Al Capone, una volta il potente e temuto boss criminale, si spense all'età di soli 48 anni. La sua morte segnò la fine di un'era nel mondo del crimine, ma anche la conclusione di una vita caratterizzata da eccessi, violenza e infine dalla tragica degenerazione causata dalla malattia. Il suo corpo trovò riposo al Mount Carmel Sematary di Chicago, mettendo definitivamente fine alla vita tumultuosa di uno dei personaggi più controversi e famigerati della storia criminale degli Stati Uniti. Al Capone, da icona del crimine a una fine solitaria, rimane un capitolo oscuro e complesso nella storia americana. La figura di Al Capone, l'infame boss del crimine organizzato, ha ispirato una serie di rappresentazioni cinematografiche e televisive che hanno catturato l'immaginazione del pubblico nel corso degli anni. La sua vita controversa e i suoi lati oscuri sono diventati un terreno fertile per la creazione di opere cinematografiche e televisive di grande impatto. Fra gli attori che hanno portato sullo schermo la complessità di Capone si annoverano Jason Roberts, Rod Steiger, Ben Gazzara e Robert De Niro. La sua figura è stata evocata direttamente o indirettamente in opere come The Untouchables Gli Intoccabili, che si concentra sull'opera degli agenti federali che lo combatterono con determinazione. Tra i film più celebri che trattano la sua storia spiccano due adattamenti di Scarface. Il primo, diretto da Howard Hawks e interpretato da Paul Mani, si basa sul romanzo omonimo che, per motivi di copyright, usa pseudonimi. Qui Capone è Tony Camonte. Il secondo, diretto da Brian De Palma e interpretato da Al Pacino, trasporta la narrazione nell'America degli anni Ottanta, ribattezzando il protagonista Tony Montana e concentrandosi sul traffico di cocaina. Nel 2020, il film Capone ha portato sul grande schermo la storia del Capone cinquantenne, alle prese con la demenza e perseguitato dal suo violento passato. Questa rappresentazione, diretta da Josh Trank e con attori come Linda Cardellini, Matt Dillon e Tom Hardy, esplora il lato più oscuro e psicologico del famigerato criminale. La televisione ha dato vita a una serie memorabile con l'interpretazione di Stephen Graham nella serie Boardwalk Empire 2010-2014, prodotta da Martin Scorsese. Questo adattamento televisivo ha offerto uno sguardo approfondito sulla vita e sulle attività criminali di Capone durante l'era del proibizionismo. Le molteplici rappresentazioni di Al Capone sullo schermo testimoniano il fascino indelebile che la sua storia ha esercitato sulla cultura popolare. La sua figura complessa, la sua determinazione criminale e il suo declino hanno ispirato una vasta gamma di opere, trasformando il reale in immaginario e contribuendo alla mitologia del mondo del crimine organizzato americano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.